Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, dopo il maxicolpo di ieri ad un'azienda ora fa retina, cresce la preoccupazione dell'intero comparto. I recenti assalti infatti hanno molti aspetti in comune, dettagli che potrebbero far ipotizzare un collegamento tra loro. Colpi quasi fotocopia, studiati nei minimi particolari, da banditi evidentemente non certo improvvisati. C'è un forte allarme nel mondo orafo a retino dopo l'ennesimo assalto, andato a segno con un bottino di un milione di euro in un'azienda ora fa che produce catename. Nell'arco di un anno i colpi sono stati quattro, ogni volta lo scenario è molto simile, strade ostruite con alberi, mezzi, addirittura vecchi frigoriferi, auto usate come ariete e casse forti saltate in aria. Tutto in una manciata di minuti. L'ultimo colpo alla Multiform a Quarata lo scorso 12 settembre, il tentato colpo alla Chini a Ponticino. Sempre a Ponticino venne presa di mira mesi fa la Jessica Jewels e a Castelluccio, nell'ottobre del 2022, la Top Gold. Le indagini su tutti e quattro i casi sono condotte dai carabinieri della compagnia di Arezzo guidati da Silvia Gobbini. Gli inquirenti stanno mettendo insieme le testere di un puzzle per capire se dietro ai colpi ci sia la stessa banda o più di una. Nel frattempo, e di poche ore fa, l'appello della consulta ora fa retina che per bocca del suo presidente ha chiesto al prefetto più personale delle forze dell'ordine, impegnato per tutelare questo settore, diventato ormai un obiettivo sensibile. Ancora cronaca, la salma della ciclista morta due giorni fa dopo 50 giorni dall'incidente stradale è stata posta sotto sequestro dall'autorità giudiziaria. L'uomo, una 38enne di origine indiana ma residente in provincia di Arezzo, era rimasto gravemente ferito in uno scontro con un'auto mentre si trovava in sella la sua bici all'altezza del casello autostradale delle Vertiga, Monte San Savino. A meno di due mesi dall'incidente è deceduto mentre si trovava in un centro di riabilitazione in Valdarno. Sul corpo verrà effettuato l'esame autoptico e nei confronti dell'uomo alla guida dell'auto si procede per omicidio stradale. E adesso torniamo invece a parlare dell'inchiesta a Cheu. Per il secondo anno consecutivo in Valdarno è infatti tornata la camminata per la bonifica dei siti inquinati, il servizio di Greta Settimelli. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 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 Cittadini e associazioni chiedono a gran voce la bonifica dei 13 siti in Toscana interessati dall'inquinamento da Cheu. Quest'anno la camminata Liberi dal Cheu, organizzata da Legambiente, presente anche Libera, e tanti cittadini parte da San Giovanni Valdarno. È un tema che i cittadini devono sapere che è ancora vivo, che non è risolto niente, che siamo ancora, diciamo sì, ai primi passi da dover fare e quindi dobbiamo tutti insieme tenere informato la cittadinanza e il tempo stesso anche stimolare le istituzioni a fare le loro scelte e andare avanti. Con una camminata che quest'anno parte da San Giovanni Valdarno, nell'Aretino, cittadini e associazioni chiedono la bonifica dei 13 siti toscani inquinati da cromo esavalente prodotto dalle concerie. Siti individuati nell'inchiesta Cheu della DDA che ha rivelato infiltrazioni dell'Andrangheta oltre a inquinamento e altri reati. Tre di questi siti si trovano nel Valdarno Superiore. La camminata Liberi dal Cheu, organizzata da Legambiente e altre associazioni, tocca proprio uno di questi. Qui a due chilometri, al raccordo della strada provinciale 7, all'altezza di Piantravigne, perché anche lì c'è uno dei tre siti nel Valdarno dove è stato localizzato il Cheu. Gli altri due sono a Bucine, nel cantiere per inerti Le Rose e anche nel Capoluogo. Il Cheu, ricordiamoci, produce cromo esavalente a contatto con l'ossidazione. Adesso comincia a piovere e quindi la trasformazione in sostanza cancerogena. Questo lo dice l'ARPAT, lo dice l'Università di Pisa. E' necessario a questo punto bonificare. L'obiettivo è quello di bonificare questi 13 siti. Presenti alla camminata anche le amministrazioni comunali, adesso i cittadini e le associazioni chiedono che la giustizia faccia il suo corso. Vogliamo che le indagini che sono state chiusi arrivino in discussione in aula. Aspettiamo già da tre mesi il pronunciamento del gruppo perché il processo bisogna inizi. Speriamo che questi tempi lunghi possano portare anche a dei rinviaggiudizi ponderati in modo tale che comunque poi anche un processo sia un processo che si possa svolgere regolarmente nei tempi giusti. Chiediamo che la giustizia, anche se a tempi un po' troppo lunghi, faccia però il suo corso è che sia incisiva. E restiamo in avvaldarno per tornare a parlare del crollo all'Istituto Professionale Marconi di San Giovanni. Da lunedì altre 10 aule saranno disponibili per il ritorno alle lezioni in presenza per gli studenti. E' stato infatti allestito lo stabile messo a disposizione dalle suore stimatine nel centro san Giovannese. Le aule consentiranno di riprendere a pieno le attività degli studenti e da lunedì saranno aperte anche le aule del corso parrucchieri già rese disponibili dallo scorso 28 settembre. E sempre a San Giovanni Valdarno è stato confermato anche un caso di virus dengue per una persona che era tornata da un viaggio all'estero e aveva soggiornato nel comune. La comunicazione è arrivata dal Dipartimento di Prevenzione, Igiene Pubbliche e Nutrizione dell'Atla Toscana Sud-Est con l'invito all'amministrazione comunale di attivarsi con la normale profilassi Oggi il sindaco Valentina Vadi ha così firmato l'ordinanza contingibile d'urgente con la quale dispone la disinfestazione. Adesso voltiamo pagina. Ci saranno anche degli agricoltori aretini alla manifestazione nazionale indetta da Cia agricoltori italiani. Vediamo il perché. Nel servizio. Il reddito medio delle imprese agricole si è ridotto di oltre il 60%, un dato preoccupante anche in questa provincia. Il mondo agricolo si mobilita al grido di non toglieteci il futuro e alla manifestazione del prossimo 26 di ottobre a Roma ci sarà anche Arezzo. La grande mobilitazione promossa da Cia nazionale rimette al centro l'impresa agricola e il suo reddito, questo l'obiettivo della mobilitazione per tutelare il futuro dei produttori di fronte alle grandi emergenze e alle sfide globali che toccano il settore primario. I prezzi sono alle stelle di Cia e gli agricoltori sono sempre più poveri. È per questo che in tanti, tanti agricoltori, tanti allevatori di questa provincia andranno a Roma il 26 per portare all'attenzione del governo le tante, enormi criticità di questo settore e per richiedere che vengano inserite con urgenza nell'agenda politica con la massima priorità. Oltre alla questione prezzi, tra i temi principali, anche quello delle pensioni e di coloro che invece devono accedere al mondo del lavoro per quello che riguarda l'agricoltura, la difficoltà a reperire mano d'opera è davvero importante. Quindi chiediamo di poter essere messi in contatto, di avere un contatto fra scuole e aziende, di avere una maggiore fruibilità anche al lavoro e soprattutto di riuscire a sfatare il mito che azienda agricola vuol dire lavorare nei campi o lavorare in una stalla. Aziende agricole come la mia o come tante altre in questo momento vogliono dire fare turismo verde, fare esperienze verdi, essere legate al sociale, essere legate alla didattica, essere legate anche tutta una serie di prodotti che potrebbero permetterci uno di vivere meglio, di stare meglio anche per quanto riguarda l'alimentazione e il vivere. Ecco noi chiediamo almeno l'incremento delle pensioni minimi almeno a 780 euro che è il minimo per essere sopra la soglia della povertà, altrimenti il problema anche della sanità non si risolve se i cittadini non sono in grado magari di pagarsi neanche un'analisi o una prestazione di qualsiasi tipo. All'Arezzo Fiere e Congressi è tutto pronto per il ritorno del grande mercatino delle pulci, una giornata all'insegna del riuso del consumo consapevole dell'economia circolare. Sono arrivati tanti giovani che ci hanno chiesto ma è una cosa tipo Vinted, nel senso che loro hanno conosciuto prima l'app della cosa reale ma è questo il valore aggiunto, che l'usato ormai è decisamente qualcosa da perseguire, qualcosa di utile, però il fatto di poterlo fare di persona e di conoscere le persone non è una cosa da poco. Una piccola portobello in salsa retina o per dirla all'italiana un mercato di porta portese, anche Arezzo ha così il suo punto fermo, il mercatino delle pulci. Decisamente però io direi con una giunta sociale, cioè avevamo chiaro in mente l'idea di far stare insieme le persone e di lavorare sul benessere e sulla cittadinanza. Un mercato nato 12 anni fa come svuota soffitte, oggi diventato un vero e proprio appuntamento fisso per gli aretini ma non solo. Possiamo dirlo a gran voce perché soprattutto per questa edizione sono rimaste fuori centinaia di persone, le richieste iniziano ad arrivare da tutta Italia, la parola diciamo si diffonde perché poi la cosa più curiosa è che moltissime persone ci chiamano proprio perché altri amici hanno fatto questa esperienza e quindi la consigliano. Il filo conduttore è l'usato, è l'uso consapevole, è il riciclo, è il riuso, ma tutto questo lo scambiarsi poi fa modo che lo scambio avvenga anche in termini umani. In tutto saranno sei i padiglioni per questa edizione. Ci sarà anche quello del vintage di qualità dove ci sono proprio i negozianti da tutta Italia. Poi dopo gli svuotasoffitte continuano a farla da padrona, per la maggior parte sono aretini, sono 500, ma come dicevamo prima insomma con centinaia di persone veramente rimaste fuori questa volta. Come sempre tante anche le collaterali. Siamo qui nel nostro corridoio vasariano perché qui ospitiamo l'espo artistica ma soprattutto le tantissime raccolte fondi, nel senso che ci sono almeno una ventina di associazioni della città che in quella giornata raccoglieranno fondi per le loro attività. A Castiglion Fiorentino è stato inaugurato il Parco Donatori di Sangue, un taglio del nastro nella prima giornata della festa provinciale dei donatori Frates. Una giornata molto importante per la nostra comunità, ha detto il sindaco Marco Ermini. Abbiamo voluto unire l'inaugurazione del progetto di riqualificazione street art con l'intitolazione del Parco ai Donatori per ringraziarli della generosità che quotidianamente hanno per tutte le nostre comunità. La street art, realizzata da due artisti mozza e ninjas, rappresenta la storia del piccolo borgo. E in Piazza Grande invece questa mattina è stato presentato il restauro dell'orologio del Palazzo di Fraternita. Un tesoro restituito alla città. è stato infatti presentato il rinnovato orologio astronomico della Fraternita dei Laici. È la prima volta che siamo stati in grado di ricostruire una colorazione del quadrante mobile con una certezza di aver ritrovato nel fondo di questo quadrante i colori veri così come erano nel Cinquecento. L'antico Automa è stato sottoposto ad un delicato intervento che lo ha riportato al suo antico splendore. Abbiamo fatto tutta una serie di analisi e di rilievi anche utilizzando il microscopio per trovare le poche tracce dei colori e delle dorature originali che sotto numerose mani di ridipintura e di sporco di nerofumo sono stati individuati in una bellissima azzurrite che colorava il quadrante e nelle dorature a oro che invece doravano le sfere e le linee del calendario lunare. L'orologio presente in Piazza Grande dal 1552 rappresenta uno dei principali simboli della Fraternita. Abbiamo tutti i documenti, le deliberazioni scritte a mano di questo orologio di quando fu deciso dal magistrato di costruire questo orologio. Intere generazioni sono passate davanti a questo orologio, hanno visto le ore, le fasi lunari e altre generazioni che verranno dopo di noi vedranno questo orologio. Un restauro reso possibile grazie all'impegno di Ancos e con Fartigianato Imprese. Ci è piaciuta l'idea del restauro dell'orologio che ridava a questa città la possibilità nella piazza centrale, nella piazza della Giostra del Saracino, al centro di un'architettura che è meravigliosa, far ritornare e dare vita a un orologio che da 500 anni ha segnato la vita degli aretini. Il noto prete Brindisino Cosimo Schena ieri sera ad Arezzo per rappresentare il suo ultimo libro. Credere in Dio non è per niente facile perché affidarci a Lui significa cambiare la nostra vita, cambiare quelle prospettive, quei modi di fare, di pensare, di agire che non hanno nulla a che fare con Cristo. Con centinaia di migliaia di follower sulle piattaforme social, Don Cosimo Schena è diventato una figura di riferimento nell'era digitale. Ordinato nel 2009 è il primo sacerdote a cui Whatsapp ha concesso un canale esclusivo. Tutti i preti siamo chiamati a stare accanto alle persone, a stare vicino a tutti coloro che incontriamo nei vari luoghi dove viviamo. Attraverso i social per me è diventato un ponte per raggiungere quei cuori, quelle persone che nella realtà non posso incontrare. però la Chiesa secondo me pian piano si sta facendo molto a strada su questo, infatti ci sono i cosiddetti adesso influencer cattolici di cui faccio parte anche io e sono un gruppo di 60 giovani e meno giovani, preti e non preti, suore anche, che attraverso i social cercano di portare un'evangelizzazione un po' diversa, più all'avanguardia, più al passo del momento. Il prete Brindisino ha fatto tappa anche ad Arezzo per presentare il suo nuovo libro L'uomo nel cuore di Dio. Abbiamo bisogno di uomini di buona volontà come Don Cosimo Schiena che oltre ad essere un prete è anche un uomo che ci sente moltissimo soprattutto per il momento storico nel quale viviamo. C'è bisogno di pace, di uomini che portano la pace e c'è bisogno di uomini di buona volontà. Io cerco di portare agli altri quello in cui credo, cioè il mio desiderio è sempre di non dire agli altri ciò che per primo non vivo, quindi penso che alla gente arrivi anche questo e poi spero che almeno un cuore attraverso le mie parole possa ritrovare un po' di sollievo, un po' di speranza e gioia di vivere, che ne abbiamo tutti bisogno. Ci spostiamo adesso a Monte Argentario per conoscere in questo caso un romanzo a fumetti sul caso Lattes. Parla di un avvenimento, di un episodio avvenuto realmente qui a Porto Santo Stefano, coinvolge un po' tutta la comunità perché è legato a quella che sarebbe diventata, anzi già lo era la fonte economica più importante del nostro paese, cioè il turismo. Porto Santo Stefano, giugno 1906. Azzaria Lattes, sindaco ebreo di Monte Argentario, viene trovato morto davanti al portone di casa con una pallottola piantata in testa. Così si apre il caso Lattes, un romanzo a fumetti realizzato da Marco Cosentino, Gualtiero della Monaca e Carlo Rispoli, un romanzo grafico che si basa su un caso realmente avvenuto, già raccontato nell'omonimo romanzo dello stesso della Monaca. Tutti i giornali del Centro Italia ne parlavano e ne parlavano come un misterioso omicidio, per cui la stagione balneare era messa a rischio perché non era bello venire in vacanza dove girava un ipotetico assassino, quindi era importante scoprire al più presto come sono andate le cose e quindi arrestare l'eventuale colpevole. Fare questo contrasto fra la stagione balneare in arrivo e l'omicidio che era avvenuto dà questa lettura un po' particolare e il lettore già si immedesima in una situazione che non è di festa. Mi piace sicuramente anche il colore nei fumetti, però sicuramente in questo caso qui abbiamo privilegiato il discorso di bianco e nero anche perché abbiamo concordato insieme questa forma di scrittura. Apriamo la pagina dello sport a calcio femminile, domani le Amaranto sfideranno in casa la Ternana calcio d'inizio alle 15 allo stadio comunale Cuccoli di Castiglion-Fibocchi. Sentiamo le parole di mister Mike. Abbiamo visto la Ternana, abbiamo studiato in questi primi quattro partiti cosa ha fatto. Una squadra che ha un modulo simile di noi, attacca molto la profondità anche, una squadra anche con molta tecnica. Noi abbiamo studiato questa squadra, siamo preparati, abbiamo fatto tutti gli allenamenti con molta intensità. Ci piace molto giocare contro questo tipo di avversari, soprattutto avversari che cominciano con la palla e noi poi siamo una squadra che possiamo leggere molto bene, come abbiamo fatto in 180 minuti contro la Lazio, di fare questo pressing che intanto è parte del nostro DNA. Aspetto una partita molto fisica anche, dal punto di vista fisico, con contrasti. Con la Ternana sappiamo che è una squadra che ha molte giocatrici che dal punto di vista atletica danno molto. Sarà una partita per noi in casa che, ho parlato anche con le ragazze ieri, piace a loro questo tipo di partita perché loro giocano e hanno cominciato a giocare il calcio per giocare questi tipi di partite. Quindi per tutti è un momento anche per la società, siamo in questa categoria, in questa serie B per giocare questi tipi di avversari. Più o meno abbiamo in mente le ragazze che cominceranno questa partita, però è un gioco anche di squadra questo. Sicuramente facciamo i cambi per aiutare questa prestazione, come abbiamo fatto anche nelle ultime partite. Usiamo molto la nostra panchina per aiutare la prestazione. L'Amen ABC Servizi domani invece ospita la Pala Sportestra alla Stosa Virtus Siena, una sfida ad alto coefficiente di difficoltà per i ragazzi di Coach Evangelisti. Servirà la miglior Amen BC Servizi domenica alle 18 al Pala Sportestra per affrontare la Stosa Siena che dopo lo stop rimediato nella prima di campionato ha subito invertito rotta, conquistando due successi consecutivi. Confermato in panchina a Coach Lasi dopo la vittoria e dei play-off dello scorso anno, Siena ha affiancato al nucleo storico giocatori di grande impatto per la categoria, permettendo anche la crescita di un talento fatto in casa come Calvellini. Il trio di nuovi arrivati, Bolis, Diminic e Lombardo, hanno dato qualità e fisicità ad un roster già molto competitivo, come l'Amen BC Servizi ha avuto modo di poter vedere nell'amichevole precampionato disputato un mese fa a Siena. Rispetto alla trasferta di Cecina di sabato scorso, in casa Maranto è pienamente recuperato Terrosi, che va così ad allungare le rotazioni a disposizione di Coach Evangelisti. Per questa sfida è diventato ormai un classico delle ultime stagioni, la sbacchia ma raccolta a tutti i propri sostenitori per provare ad invertire un pronostico sulla carta sfavorevole visto il tasso tecnico dell'avversario. Questa perra stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.